All'evento di oggi 11 media sul tema dell'enterprise mobility, impresa siti incontra Gassone e Nencini, country manager di Tremicro in Italia. Come si coniuga il tema dell'enterprise mobility con quello della sicurezza secondo Tremicro? Sicuramente l'enterprise mobility è uno dei problemi maggiori che le aziende oggi devono affrontare in termini di sicurezza. Visto il grande utilizzo che ne stanno facendo all'interno delle applicazioni e dei processi aziendali. Logicamente è un ulteriore strato che si aggiunge nei già strati presenti all'interno di un'azienda in termini di sicurezza. È un approccio differente in quanto completamente cambia il paradigma della sicurezza in quanto un mobile, un tablet, un telefono si sposta con la persona. Quindi entra e esce da quello che era il perimetro aziendale che era stato fino ad oggi protetto e considerato il core business delle aziende. Apre dei nuovi scenari, scenari che vanno affrontati con delle tecnologie studiate ad hoc per poter bloccare l'eventuale utilizzo da parte di mani intenzionati di questi strumenti per andare a carpire dati e a rubare dati. Perché dobbiamo ricordare che sostanzialmente oggi il problema della sicurezza è legato al dato più che al device. Oggi quello a cui mirano i cybercriminali, ma non solo perché vediamo e abbiamo esempi anche degli ultimi giorni di stati che hanno utilizzato queste tecnologie per attaccare altri stati, quindi anche lo scenario degli attaccanti sta cambiando, sta diventando sempre più ampio perché gli interessi su queste tecnologie sono sempre molto maggiori e perché su queste tecnologie risiedono sempre molti più dati sensibili di interesse comune, diciamo di interesse sia lato cybercrime per rivendere e monetizzare queste informazioni, sia lato governi e istituzioni per carpire informazioni che possono essere utili e riutilizzate in qualsiasi altro momento. Quindi nuovi paradigmi e scenari di sicurezza in cui si innesta il tema della mobility. Voi proponete oggi nuove soluzioni innovative, vediamo quali. Allora 3micro è sempre stata presente nel mondo della mobility con strumenti tradizionali. Diciamo che da due mesi a questa parte abbiamo iniziato, abbiamo proposto un nuovo prodotto che è abbastanza innovativo per quello che è il mercato della security, in particolar modo nell'ambito dei prodotti mobile. Sostanzialmente quello che ci stiamo muovendo è stiamo facendo un passo indietro, nel senso stiamo cercando di riportare il dato all'interno di quel confine che appunto ho detto che con il mobility ormai è sparito. Quindi abbiamo presentato una soluzione ad hoc che permette di gestire dei telefoni virtualizzati in maniera remota. Questo ci permette ad esempio di garantire all'utente che nessun dato aziendale sia mai presente sul device mobile. Questo aumenta il livello di sicurezza, logicamente ha come problematica che ci deve essere la connettività del dispositivo nei confronti di una rete. Come dico sempre, o comunque sia, il discorso sicurezza è sempre la valutazione di un rischio. Va valutato il rischio, va capito che cosa deve essere protetto e come deve essere protetto e quanto è importante proteggerlo. In base a questo poi siamo in grado quindi di offrire soluzioni sia classiche di mobile device management, di mobile application management e questa nuova soluzione che si chiama appunto Workforce che permette di remotizzare tutti i dati all'interno di un data center sia esso privato, ibrido o in the cloud dove il dato risiede esclusivamente quindi sui server all'interno del data center e mai sul device mobile. Quello che l'utente avrà ora è semplicemente una semplice applicazione che gli permetterà di poter gestire questo dato così come se lo gestisse sul normale telefono Android. perché l'interfaccia, e questa è la particolarità rispetto a soluzioni similari è quella di un normale telefono quindi con la stessa user experience di un telefono che cosa significa? Significa che funziona l'accelerometro del mobile quindi se giro il telefono si gira nell'interfaccia significa avere la possibilità del multitouch quindi dello zoom con le tre dita toccando lo schermo quindi la stessa identica user experience quindi nessun impatto lato utente nel switchare a questa tecnologia ma con la particolarità che il dato fisico risiede all'interno del data center dell'azienda quindi anche lì con maggiori possibilità di controllo e con strumenti basati diciamo così su quello che è la sicurezza tradizionale che abbiamo applicato fino ad oggi che possono essere applicati anche al mobile. il nostro corso di oppositei Grazie a tutti.